Con un gol dell'ex Traini il San Nicolò vince di misura il recupero del Bonolis a spese della San Maurese e scavalca agnonese-vastese. Vittoria di grinta e di tenace più che di qualità e che consente all'undici di Epifani di insediarsi al secondo posto vista la vittoria del Matelica e che si prende a sua volta la vetta del girone F. Il tecnico di casa conferma i dieci undicesimi della squadra che ha battuto l'Alfonsine, unica novità all'inserimento di De Giglio in gol domenica scorsa al posto di Massetti. 4-2-3-1 con Bisegna in campo, la squalifica uscita nel comunicato del giorno della partita diviene efficace dal giorno successivo e il fantasista così salterà la trasferta di Iesi. San Maurese con il 4-3-3. La prima emozione del match al sedicesimo, Bisegna serve la corrente De Giglio che dopo una serie di finte conclude, Gori respinge di piede sul successivo corner di Bisegna, stacca Traini che incorna alto. La San Maurese gioca la sua partita e non si chiude, i romagnoli si rendono pericolosi alla mezz'ora con l'affondo di Peluso che mette dentro, Ninte chiude a colpo sicuro ma Mozzoni salva forse anche con un tocco di braccio. Da qui le proteste dell'undici di Protti. Interlocutori e le conclusioni dalla distanza di Tartabini al 32esimo, Blocacciotti e Bisegna altissimo al 34esimo. Più pericoloso il sinistro a fil di traversa del capitano ospite Scarponi al 43esimo. Si va al riposo a reti bianche e con San Nicolò incapace di sfruttare alcune ripartenze per alcuni errori in fase di appoggio e di controllo. Ma all'inizio ripresa la squadra di Epifani pigia sull'acceleratore, al terzo Gori raccoglie con le mani un retropassaggio di un compagno di squadra, punizione a due in area che Bisegna calcia in barriera. Sul seguente corner pregevole schema del San Nicolò, Bisegna libera Chiacchiarelli che liscia il tiro e spreca un rigore in movimento. L'esterno San Nicolò si riscatta però al quarto d'ora quando Pennella da par suo un cross alla destra, Traini anticipa tutti e sigla una gran rete. Il classico gol dell'ex è dire che era già pronto il cambio con Moretti, posticipato così di 13 minuti per effetto della marcatura. La botta di Scarponi al 16esimo non impenserisce Ciotti, la San Morese alza il baricentro ma il San Nicolò si difende con ordine. Al 32esimo il nevo entrato in coronato non sfrutta un'azione d'angolo. La girandola dei cambi non incide sulla partita, anche perché all'ultimo minuto di recupero De Santis mura sotto porta Lombardi e il San Nicolò può festeggiare così la quinta vittoria nelle ultime sei gare. Domenica trasferta Iesi, mentre per i romagnoni nuovo testa Abruzzese ospitando la Bastese. Sì, c'è una partita equilibrata anche se penso che San Maurese come azione da gol abbia fatto qualcosa di più sinceramente. Poi San Nicolò è stata brava a trovare una giocata importante e è riuscita a sbloccare una partita che penso che in quel momento se era una squadra che meritava qualcosina in più era la San Maurese. Però purtroppo il calcio è questo e ne prendiamo atto. Noi venivamo da un buonissimo momento e oggi abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, un campo difficile contro una squadra che ha un budget importante per cercarsi di vincere il campionato e penso che la mia squadra non l'abbia sfigurata o fatto, anzi, secondo me avrebbe meritato ampiamente di vincere. Un esame superato alla grande perché abbiamo incontrato secondo me una squadra importante di questo campionato. Era una partita che si giocava dopo due giorni quindi c'erano tante incognite. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo sofferto, abbiamo stretto i denti perché magari non eravamo al 100%, abbiamo fatto un grande gol, credo bello, e abbiamo portato a casa tre punti importanti perché questi sono tre punti importanti che valgono molto di più di tre punti oggi. Noi abbiamo vinto, c'è grosso rammarico forse per i due punti lasciati a Pineto, però continuiamo la scia di risultati positivi, veniamo da tantissime vittorie e il Matelica ha vinto ma ci interessa poco perché il campionato è ancora lungo, ci sarà da battagliare e poi vedremo alla fine chi arriverà.